L'entusiasmo è soprattutto rivolto a questo progetto, perché mi ha permesso anche di interrogarmi sul rapporto fra suono e immagine. Su cosa significa oggi mettere il mondo della musica classica in relazione con le immagini? I video operatori bravi, i registi non hanno un portato diretto con noi con i musicisti bassici ed io ho scoperto tantissimi poi, molto, molto belli, nel processo poi di colpare proprio il video. La contemporaneità di un prodotto che in fondo viene da tanto tempo fa. Resta un piacere ridare il giusto valore alla musica nel rapporto musica-immagine. Grazie. 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 Grazie.